La chiesa di Sant'Anna a Torre del Greco si prepara alle celebrazioni di San Biagio. Tradizionalmente il 3 febbraio di ogni anno i fedeli torresi si recano alla piccola e antichissima cappella in via Calastro per i riti collegati al santo protettore della gola. Quest'anno l'emergenza pandemica non consente di riunire così tante persone in un luogo di culto tanto piccolo. Per questo motivo l'effigie di San Biagio custodita nella cappella è stata trasferita nella chiesa di Sant'Anna che domani ospiterà le celebrazioni. Il parco Don Luigi Maiulo ci ha spiegato la liturgia e la tradizione legate al santo. Oggi la chiesa celebra la presentazione di Gesù al Tempio che è conosciuta come la Cantelora. Durante la celebrazione eucaristica verranno benedette le candele che è simpolo dell'essere luce del mondo. E in preparazione a questa festa liturgica noi ci prepariamo anche alla festa di San Biagio Vescovo e Martire che domani la chiesa celebra. Il primo anno che è nella nostra famiglia parrocchiale c'è l'immagine di San Biagio della chiesa di via Calastro. Siccome che la chiesa è molto piccola la famiglia Sorrentino Palompa, nostri parrocchiani, hanno deciso di portare qui la statua. Noi celebreremo le sante messe domani mattina alle 8, 10 e nel pomeriggio alle 18 e 30. Ci saranno dei volontari che daranno all'uscita della chiesa, daranno un batuffolo di olio benedetto con i taralli benedetti. Sappiamo che San Biagio è miracoloso proprio per la gola, per il mal di gola e si racconta che mentre lui andava al martirio una mamma disperata perché il proprio figlio stava per morire mise ai piedi di San Biagio il proprio figlio. San Biagio lo toccò, pregò e il bambino si risvegliò. Questo è il segno del miracolo. Viviamo questi due giorni in piena comunione con tutta la chiesa e anche nel pensare che oggi il nuovo arcivescovo di Napoli prenderà servizio alla chiesa. Anche questa è un'intenzione di preghiera. Grazie.